boom a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video allora parlo piano perché non sono neanche a casa mia allora partita di oggi innanzitutto partiamo da noi 70 mila persone ragazzi veramente complimenti a noi interisti che siamo una delle tifoserie più belle che c'è cioè per un inter torino delle 12 e 30 è qualcosa di fantastico fantastico poi parlando della partita non l'ho seguita proprio attentamente perché purtroppo ero fuori e l'ho vista con il cellulare però però per quello che ho visto secondo me meritavamo la vittoria perché comunque possesso palla occasioni da gol miracoli di siriku traversa di vecino loro un tiro che hanno fatto jaco falchi non si sa come ha fatto in mezzo a 844 gambe ha tirato e ha segnato e va bene così va bene così l'importante l'importante è la concentrazione che la squadra mette perché si vede che comunque appena subisci gol non ti abbatti e quindi continui a giocare come stai giocando e trovi il gol e non è la prima volta che succede quindi io devo essere contento sono scontento ovviamente perché volevo i tre punti cioè ragazzi davanti a 70 mila persone in casa ti aspetti i tre punti però ahimè accettiamo l'esito del risultato andiamo avanti continuiamo a crederci perché ragazzi siamo lì su non possiamo fare altro che crederci ottimo ottimo mauri gardi per quel poco che ho visto l'ho visto sempre in difesa a sostenere la squadra ad aiutare soprattutto il centrocampo e la difesa e poi ripartiva quindi complimenti ai gardi che sembra sembra stia cambiando il suo atteggiamento in campo sembra ho detto quindi però non allarghiamoci troppo però però è già un buon inizio ottimo sono contentissimo per eder che dopo il rinnovo o intanto ha segnato il benevento su punizione ragazzi ci vuole benevento ciciretti mannaggia che stavo dicendo a contento per il per il rinnovo di eder e per il suo gol a porta vuota ma chi se ne fotte chi se ne fotte ottima ottima anche tutta tutta la squadra perché comunque l'inter ha giocato cioè ha fatto la sua partita e purtroppo quando la palla non vuole entrare non vuole entrare ragazzi video breve non c'è altro da dire l'inter si vede che sta bene si vede che sta bene fisicamente si vede che sta bene sta molto meglio psicologicamente più che fisicamente sta bene psicologicamente perché se tu subisci i gol e poi hai la forza di farlo comunque continuare a giocare con tutta quell'intensità vuol dire qualcosa negli schemi dei giocatori è comunque una mano diversa di un allenatore diverso sexy luciano oggi non ho il mantello però comunque l'ex sexy luciano ci mette sempre la sua infatti ha avuto l'intuizione di mettere der eravamo un po sbilanciati perché comunque eravamo offensivi però non poteva fare altro e alla fine ha avuto ragione per l'ennesima volta spalletti quindi signori un altro punticino siamo a 30 tondi tondi adesso in diretta la juve sta perdendo il napoli sta pareggiando quindi vedremo se proprio male ci dovrà andare verremo superati credo sì perché la juventus e la lazio stanno a 28 se vincono passano automaticamente sopra l'inter ma va bene signori vi saluto noi ci vediamo alla prossima e sempre sempre forza inter bella